In Italia sono stati quasi 4,8 milioni pensionati che nel 2023 hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 1.000 euro al mese, pari al 29,5% del totale. Lo rileva l'Inps nell'osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari, sottolineando che tra questi sono oltre 1,6 milioni quelli che hanno un assegno complessivo inferiore a 500 euro. Le donne con pensioni inferiori ai 1.000 euro al mese sono oltre 3 milioni, il 36,3% del totale e tra queste quasi un milione prendono meno di 500 euro al mese.